ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video pandora allora inquadratura un po strana dall'altissimo perché perché questo video me l'avete chiesto praticamente tutti e cioè volete vedere dove tengo tutti i miei bracciali pandora bracciali collezione anelli tutto quello che ho dove la tempo se vi ricordate in qualche video all di primark che avevo fatto vedere questa questa valigetta una valigetta portatrucco di primark costa 12 euro quando l'ho comprata io c'era solo questa versione adesso l'hanno fatta più grande più grande ci sono due o tre versioni quindi mi sono pentita di averla comprata subito perché come vedrete è un po stipata quindi non non escludo un update di valigetta a questo punto io passerei direttamente nel farvi vedere come l'ho organizzata quindi abbassa ancora la l'inquadratura e ve la faccio vedere meglio eccoci qua questa è la il cofanetto appunto di primark dentro è fatto così così lo giro che è meglio ed eccoci qui allora da una parte primo piano perché ce ne sono tre da una parte ho messo tutti i bracciali che indosso solitamente quindi quelli che utilizzo di più da questa parte il bicolor quello oro e argento tutti i video sui bracciali nel dettaglio ritrovati in alto a destra nel pallino nella playlist appunto dedicata che si chiama pandora collection e anche in fondo al video nella playlist selection sempre quando cercate pandora collection sul mio canale che trovate tutti i video quindi da una parte ho messo questo qua poi utilizzo i pannetti che danno per pulire i bracciali come separatori però avendone tanti non riesco a metterli ogni bracciale quindi limito un po i danni nel senso che facendo così evito il più possibile che si graffino tra di loro e li tengo abbastanza protetti sia dall'aria che appunto dai graffi quindi pannetto questo qua sono appunto quelli che danno in omaggio in omaggio comprando facendo una grossa spesa quindi comprando un bracciale nuovo o facendo una spesa se non ve li danno chiedeteli li trovate appunto all'interno di questo cartoncino e sono così c'è proprio il panettino all'interno della plastica quindi primo bracciale qui da quest'altra parte sempre sotto tengo il mio primo bracciale e l'altro che indosso sempre quindi questo è il secondo bracciale solitamente li metto insieme soprattutto questo con il bicolor o due clip con il silicone all'interno che li ho spostate da un altro bracciale quindi in questo momento mi avanzano non per molto poi ho un blocchino di quelli con all'interno il silicone però questo l'avevo preso su aliexpress non li avevo presi in argento e quindi si spelano e niente è un avanzo questo qua è un altro charm preso su aliexpress che è molto simile a quello originale e dovrebbe essere anche argento perché c'è scritto argento però lo lascio lì in questo momento l'ho tolto dal bracciale quindi non lo sto utilizzando quindi vado a ricomporre il mio piano da questa parte invece ho il mio nuovo bracciale in costruzione quello che sto indossando ultimamente e appunto in costruzione con la nuova collezione parte della nuova collezione sempre il mio panno che separa separa da questo qua ho smontato il mesh l'ho messo ho messo i charme su quello di san valentino con la chiusura con lucchetto però da questo gli ho messo anche appunto la catenina di sicurezza perché ho visto su tanti gruppi di facebook che si rompe questo pernino qua e quindi ciao bracciale e quindi per non fare anche ciao charm gli ho messo la catena di sicurezza che già portavo sul mesh sotto 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 messo un po da parte questo qua che ha un po i colori invernali è il bicolor rose e argento appunto c'è il cuore d'inverno il questo qua che c'è il fiocco di neve appoggiato sopra ha un po i colori invernali nessuno mi vieta di metterlo anche durante questa stagione e quindi non l'ho messo del tutto via perché vi dico così non l'ho messo del tutto via perché secondo ripiano da questa parte tengo quelli stagionali stagionali nel senso che ho questi due qua che sono quelli di pelle che metto in estate quindi i due di pelle estivi il mio bracciale estivo delle vacanze perché c'è la nave c'è il pesciolino ci sono anche qua i pesci il cocktail cocktail anguria cose la mela questo è la stella alpina appunto tra mare e montagna però nessuno mi vieta appunto di metterlo anche durante il resto dell'anno mentre sotto a tutto in questo momento ho passato questo che è quello invernale proprio quello natalizio quindi c'è il gattino natalizio il pastoncino di zucchero la casatta di santa claus i fiocchi di neve il pupazzo di neve e i guantini i guantini appunto invernali e quindi niente questo qua l'ho passato sotto e l'ho coperto con il suo panno mentre da questa parte ho passato di sopra scusate ho passato di sopra quello estivo con i due di pelle da quest'altra parte ho messo tutti i bengol quindi i bracciali rigidi e il mesh li tengo insieme poi panno di separazione e sotto ho messo i due essence e questo qua solitamente metto con gli essence quindi li rimetto insieme e li copro in modo che i bengol non graffino gli essence sotto che cosa ho? allora prima di tutto una bustina con dei blocchi di silicone presi sempre su Aliexpress questi qua vanno bene da infilare all'interno dei charm quelli senza filettature in modo che non vanno avanti indietro se ancora non avete o i blocchi con i blocchi e le clip con il silicone all'interno oppure se non avete ancora inserito le clip all'interno del bracciale o vi dà fastidio il charm che va avanti indietro insomma questi qua vanno benissimo ho pagati niente e ne ho un'infinità molto bene poi ho questa bustina in questa bustina me l'avevano data per una catenina di sicurezza gli avevo detto non voglio la scatola perché sono invasa da scatole e mi hanno dato questa bustina qua dove all'interno tengo la collana questa qua con appunto la chiave e i petit quindi la metto all'interno in modo che così non si graffia la bustina all'interno è con questo seta dovrebbe essere seta quindi bellissimo poi ho le chiavi che ecco questa cosa ve lo devo dire le chiavi non chiudono nulla di questo qua c'è la serratura c'è la chiave gira vuoto e non chiudono nulla va bene un altro blocco superstite di aliexpress che non va bene poi da questa parte come vedete sotto ci stanno le scatoline cioè proprio l'altezza giusta delle scatoline e io ho fatto così da una parte ho messo questa scatolina così presa sull'estore con l'estore ti danno questa scatolina qua quando si fanno gli acquisti ha la sua spugnetta e sotto ho messo i due anelli più grossi che ho in modo che restano protetti anche loro così mentre adesso la tolgo da questa parte un sacchettino che mi è rimasto di un bracciale niente da questa parte ho quest'altra scatola questa qua è la scatola che ti danno in store e ho messo all'interno i tre rigidi con gli zirconi che vi ho fatto vedere così non si graffino e non si rovinano poi da questa parte in queste tre scatoline ho il resto degli anelli allora il resto degli anelli ne ho messi due per scatolina poi pensavo di fare un taglio magari anche qua e qua in modo da farcene stare di più e comunque recuperare spazio quindi da questa parte ho questi due poi ancora questi altri due ve li ho fatti vedere tutti scusate io vi faccio vedere il mal di testa continuo a girare quindi di qua di là ve li ho fatti vedere tutti la collezione degli anelli sempre nella playlist selection la trovate poi ancora questo questi due e per finire questo che era il mio non c'entra niente con Pandora e quello dietro che metto sempre insieme e questo qua era tutta la mia organizzazione di Pandora come vedete è facilissimo prendere quello che mi interessa rivado a inserire la mia scatola questo questo qua il sacchettino avanzato che fa sempre comodo e in questo modo li tengo il più possibile protetti dall'aria come sapete l'argento tende ad annerire quindi se trovate a volte capita di vedere che qualcuno si lamenta che dice tipo ho lasciato il bracciale sul comodino l'ho trovato nero purtroppo dipende molto dall'umidità della casa e devo dire che la mia è una cascata in inverno quindi non sto scherzando c'è una grandissima umidità vivo con la candeggina quindi ragazze riesco a mantenerle più o meno lucidi devo dire che non li pulisco praticamente mai e all'interno di questa scatolina e così tenuti sono abbastanza protetti non mi ritrovo proprio non ho mai avuto il bracciale totalmente nero per l'aria ok io ho terminato anche questo video della mia collezione Pandora su come li tengo vi ripeto da Primark trovate questa stessa valigetta anche più grande quindi magari prima di comprare quella da 12 euro e trovarti con tutta la collezione stipata così pensateci anche a trovare quella più grande e niente io ho terminato iscrivetevi al canale fatemi sapere se volete qualche altro video su Pandora ciao alla prossima ciao 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 Grazie per la visione!